L'universo è veramente come lo dico gli scienziati Allora noi cosa siamo? Allora noi cazzo siamo! Il prodotto finale di un processo d'evoluzione O solo siamo un incontri ma sto solo più complesso Che innescherà, che innescherà, che innescherà Un processo arridoso e finito La fragilità Caratteristica predominante La fragilità Caratteristica predominante Non so cosa fare Meringhe fritte o vuote di cielo Raccolgo pezzi di vuoto In un cestino o a modo universo Il prodotto finale di un processo d'evoluzione Che innescherà, che innescherà Un processo arridoso e finito Un processo di trattamento Un processo di trattamento Un processo di trattamento Grazie a tutti.